Lui è Gerardo Placido, nato ad Ascoli Satriano in provincia di Foggia. Nel suo sangue scorre l'arte del cinema e del teatro, come dimostrano i fratelli Michele e Donato e la nipote Violante. Targa Gromo, come miglior attore esordiente nel 1977, nel suo lungo elenco di film si va da Eutanasia di un amore a Caramelle da uno sconosciuto fino a recente Vallanzasca, Agli Angeli del Male, di cui Placido ha collaborato alla scrittura della sceneggiatura. Lo abbiamo incontrato a Milano nella storica sede dell'Associazione Pugliese, dove ha parlato della sua estate tutta trascorsa nel paese natale. Quindi abbiamo fatto uno spettacolo, io e mio fratello Michele, anzi per ordine sia di importanza e sia per l'età più grande di me, negli anni. Abbiamo fatto una serata anche con mio fratello Donato, una serata con questo grande palco nella festa patronale San Potito Martire, abbiamo fatto questa serata che ricordava l'antica Roma, Pirro ed è stata una serata di divertimento soprattutto, ma anche di cultura. Un'altra cittadina, cittadina, cittadona, Manfredonia, abbiamo girato un cortometraggio che dal titolo Il mare. È un titolo piuttosto bello, ma che per noi rappresenta proprio un altro aspetto della Puglia, della bellezza della Puglia, che abbiamo voluto mettere in risalto in questo cortometraggio.